Con gli altri. Chi sono quelli che ridono con gli altri e non degli altri? Commento. Sono persone che sono giunte a capire che ogni critica al prossimo è del tutto illusoria. Ognuno infatti vive al filtro della sua evoluzione, che è diversa per tutti, anche se può essere affine. Grazie a tutti.